Ciao da Valeria, l'uscita di Batman vs Superman è stata posticipata e ne parliamo dopo il video. Sono stato molto socievole. Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Grazie, resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore. Buongiorno. È una riunione fra cinque minuti, proviamo a scendere dal letto. Sei troppo divertente. Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto. Mi piace come guardi il mondo. Quando sarai pronto per una donna? Che vuoi dire? Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato. Sei una bella ficcanaso. Com'era essere sposati? C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Come stai? Direi che mi sto divertendo. Tu meriti, sono contenta. È da tanto che non sto con una persona con cui mi senta completamente a mio agio. Cosa si prova ad essere vivi in quella stanza? Mi piacerebbe poterti abbracciare. Poterti toccare. E come mi toccheresti? Innamorarsi è una cosa folle. È come una forma di follia socialmente accettabile. Sai come un piccolo computer chiama il suo padre? Non lo so come. Pa, pa, pa. Mi senti lì con te in questo momento? Non ho mai amato nessuno. Come amo te. Neanche io. Ora so che vuol dire. Allora, la Warner Bros. ha annunciato che la data di uscita di Batman vs. Superman, alias Man of Steel sequel, verrà posticipata di dieci mesi, dal 17 luglio 2015 al 6 maggio 2016. Questo per consentire ai registi di realizzare pienamente la loro visione del progetto e sviluppare la natura complessa della storia. Il 6 maggio non è una data casuale. Questo giorno è fissato da tempo dalla Marvel per un non specificato film della fase 3. La resa dei conti al box office tra Marvel e DC è fissata, direi. La data del 17 luglio 2015, occupata in precedenza da Batman vs. Superman, sarà ora destinata all'uscita del film Pan del regista Joe Wright. E per oggi è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale, YouTube naturalmente, per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao!